Molta pasta. Tanta pasta. Troppa pasta. Più pasta. Molto, tanto, troppo, più. Parole apparentemente facili ma che molto spesso vengono usate in modo sbagliato. E allora segui questo video fino alla fine per sapere come usarle, per capire la differenza e soprattutto per evitare un errore molto comune che probabilmente anche tu stai facendo. Sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pierluigi, creatore di questo canale Vo' Apprendere Italiano e del programma VAI che è un corso di lingua e cultura italiana totalmente unico nel suo genere perché è basato su un metodo totalmente diverso da quello tradizionale, il metodo naturale e però con un tocco personale molto forte. Il programma infatti nasce dalla mia esperienza personale di apprendimento della lingua portoghese partendo dall'assoluto zero quando ancora abitavo in Italia. Se vuoi saperne di più ti invito a cliccare nel link in alto o nella descrizione del video. E cominciamo dalla parola molto, molto, usatissima e utilissima. Molto significa in grande misura, in grande quantità ed è l'opposto di poco. Mi viene in mente un'espressione italiana, un modo di dire che è Molto fumo e poco arrosto. Significa molta apparenza ma poca sostanza, ok? Si dice generalmente di una persona che parla molto ma che poi alla fine fa poco, no? Nei fatti. Esiste anche un'altra versione di questo modo di dire che è Tutto fumo e niente arrosto. Vediamo qualche esempio. Evidentemente molto corrisponde a muito del portoghese ma attenzione a un errore molto comune. Io posso dire che il video mi piace molto o che mi piace moltissimo usando un superlativo o se faccio seguire a molto un aggettivo ad esempio interessante io posso dire che il video è molto interessante o interessantissimo ma attenzione non posso dire che il video è moltissimo interessante. Questa espressione non esiste. Quindi il video mi piace molto, il video mi piace moltissimo, il video è interessante, molto interessante, interessantissimo ma non moltissimo interessante. Attenzione! E passiamo adesso a tanto, tanto. Tanto in molti casi è un sinonimo di molto. Tanto è vero che, tanto è vero, interessante questa espressione. Ricordate le frasi che vi ho citato prima con molto? Io posso usare tanto, quindi ieri faceva tanto caldo. In piazza c'è tanta gente. Questo video mi piace tanto o tantissimo. Prima abbiamo visto la frase molto interessante. Questo video è molto interessante. Domanda. Posso dire che questo video è tanto interessante? Sì, ma attenzione, generalmente quando usiamo il tanto in questo modo lo facciamo seguire da un che. Questo video è tanto interessante che lo vedrò cinque volte. Quindi tanto che, come se fosse un così che. Vi faccio un altro esempio. Quando giochiamo a calcio, Matteo è tanto contento che salta come un grillo. Tanto può significare in tal modo, in tal misura, a tal punto. Esempio. Stai tranquillo. Perché ti preoccupi tanto? Quindi tanto in questo senso è come se fosse tanto assin. E molte volte puoi trovare tanto in correlazione con quanto. Ad esempio. Il tiramisù è tanto buono quanto bello da vedere. Un'altra differenza tra tanto e molto è che tanto si può trovare in tante espressioni molto utili e molto comuni. Come ad esempio ogni tanto o di tanto in tanto che corrispondono al portoghese givesi in quando. E ancora, pensa all'espressione tanti saluti, tanti saluti, che si utilizza quando finisce una conversazione per salutare oppure per dire all'altra persona di portare i saluti a qualcun altro. Tipo tanti saluti a tua mamma, tanti saluti alla tua famiglia. O un'altra formula è tante belle cose. Tante belle cose. Che oltre ad essere una formula di saluto è anche una formula di augurio. In Sicilia, ad esempio, la mia regione di origine è molto usata. Tante belle cose. Tanto può voler dire solo, solamente. Pensate all'espressione una volta tanto. È come dire una volta sola. Io generalmente evito di comprare dolci, caramelle, piene di zuccheri e coloranti ai miei figli. Evito. Però ogni tanto, insomma, quando Matteo e Luca mi chiedono Papà, mi compri un lecca lecca? E io dico, vabbè, dai. Una volta tanto. Una volta tanto. Altra espressione utile nel quotidiano. Tanto per fare qualcosa. Tanto per fare qualcosa. Esempio. Vediamo un po' di tv. TV. Adesso. Eh sì, dai. Tanto per fare qualcosa. Cioè, solo per fare qualcosa. Solo per passare il tempo. E ancora. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Questa è un'espressione ironica che significa come al solito. Esempio. In Italia, tanto per cambiare è caduto il governo. Un altro significato di tanto è comunque. Comunque. Comunque significa di qualche forma. È inutile che ti preoccupi. Tanto. Non serve a niente. Di qualche forma. Non aggianta nada. Prima di passare a troppo e più e ad uno degli errori più comuni in assoluto da parte di chi sta imparando l'italiano, voglio dirti due cose importanti. La prima, se questo video ti sta piacendo, ti è utile, metti un mi piace e ovviamente condividilo nelle tue reti sociali. Questo ovviamente mi aiuta molto. E un'altra cosa, fammelo sapere nei commenti. Io leggo sempre tutti i commenti e cerco di rispondere a tutti quando possibile. Seconda cosa, molto importante, più che altro un consiglio di studio che io stesso ho utilizzato. Io in questo video ti sto dando una serie di informazioni, ti sto facendo notare alcune cose della lingua. Ovviamente questo è molto importante, ma se tu fai solo questo, tra due, tre, quattro giorni al massimo avrai dimenticato tutto. E allora come fare per assimilare tutte queste cose? Puoi fare due cose. Primo, ascoltare ripetutamente questo video e ti consiglio di fare questa cosa con tutti i miei video. Secondo, molto importante, presta attenzione. Stai a contatto ogni giorno con i contenuti di vita italiana, i contenuti autentici. Che cosa sono Pierluigi? Cosa vuol dire? Stai a contatto con film, video, musiche, canzoni, libri, podcast, cose di tuo interesse che ti piacciono. In questo modo tu sentirai queste espressioni, molto, tanto, troppo, più. Naturalmente vedrai come gli italiani usano queste espressioni nel quotidiano. E tu ripeterai naturalmente queste espressioni. Grazie a questo video noterai, percepirai le differenze e così naturalmente assimilerai la lingua e al momento giusto sarai in grado di utilizzarla anche tu quando dovrai parlare. Questo è uno dei principi chiave per l'apprendimento ed è uno dei principi che giustamente usiamo nel programma VAI. Ed è per questo che il programma VAI è così efficace. Quindi mi raccomando, segui il mio consiglio, stai in contatto ogni giorno con i contenuti di vita italiana. E passiamo adesso a troppo. Troppo. Che significa in misura eccessiva o superiore al normale? Corrisponde al G-mice del portoghese. Vi ricordate le frasi di prima? Beh, io posso sostituire molto o tanto con troppo. Con un significato ovviamente un pochino diverso. Quindi, ieri faceva troppo caldo. Tava Kenci e G-mice. In piazza c'è troppa gente. Oppure, questo video mi piace troppo. In questo caso, no? È come se fosse, io costo G-mice. Quindi è come se fosse, mi piace molto, moltissimo. E a questo proposito, attenzione all'errore comune che molte volte leggo nei commenti sotto i miei video. È sbagliata la frase questo video mi piace più o questo video mi piace di più. Questo di più sembra quasi una traduzione letterale del G-mice, di più. No, non esiste questa espressione in italiano usata in questo modo. Se in italiano dite più o di più, nella testa di un italiano già c'è una comparazione. L'italiano pensa più o di più rispetto a che cosa. Esempio. Io posso chiederti. Quale video ti è piaciuto di più? Quello sui dieci passi per imparare l'italiano da solo? O quello sulla differenza tra il verbo dire e il verbo parlare? E tu potresti rispondere. Mi è piaciuto di più il primo. O mi è piaciuto di più il secondo. Il primo mi è piaciuto di più del secondo. E viceversa. Ok? Quindi attenzione. Di più o più. Si usa quando c'è una comparazione. Pierluigi, ma se io voglio dire Eugosedus Deux, come devo dire in italiano? E quindi come avrei cominciato a capire il più corrisponde al mais del portoghese e quindi ad esempio io posso dire Matteo è più alto di Luca oppure Matteo è il più alto della sua classe O ancora, pensate all'espressione A te maestargi In italiano si dice A più tardi A più tardi Ma attenzione alle differenze tra italiano e portoghese Non sempre quando in portoghese usiamo mais in italiano usiamo più E qui vi dico, attenzione, altri due errori molto comuni Primo errore L'altro giorno mi trovavo a San Paolo in una gelateria nel quartiere Moca e ho condiviso una foto nelle mie storie su Instagram A proposito Se non mi segui ancora su Instagram seguimi anche lì chiocciola vuoi apprendere italiano E in questa foto che sto vedendo in questo momento c'era scritto in questa gelateria Io ho chiesto a chi mi segue lì su Instagram sapresti dire questa frase in italiano? E molte persone, davvero tante hanno tradotto questo in questo modo più un pezzetto o più un pezzettino Ma attenzione qui c'è l'errore Questo in portoghese in italiano non è più uno in italiano si dice un altro un altro Quindi in italiano si dice un altro pezzetto o un altro pezzettino e questa frase è molto utile perché quando voi vi trovate al bar in Italia, al ristorante volete chiedere di qualsiasi cosa? Non dovete chiedere più uno o più una ma dovrete dire un altro o un'altra ad esempio un'altra pizza per favore un altro bicchiere un'altra forchetta un altro caffè Secondo errore comune Pensate all'espressione quero mais del portoghese è sbagliato dire voglio più questa sarebbe una traduzione letterale voglio più o voglio di più no quero mais del portoghese in italiano si dice ne voglio ancora ne voglio ancora questa è una frase che mio figlio Matteo che fa sempre il bis pronuncia molte volte quindi quero mais ne voglio ancora oppure voglio ancora più la cosa che volete ancora tipo voglio ancora pasta voglio ancora carne voglio ancora polenta ok? oppure terza alternativa ne voglio cioè quero gisso no? ne voglio di più ma è importante questo ne ne voglio di più ne voglio di più quero mais gisso domanda Pierluigi e se voglio dire non quero mais in italiano come devo dire non ne voglio più non ne voglio più basta non ne voglio più bene ho terminato per il video di oggi spero che ti sia utile e che ti possa aiutare ad evitare questi errori molto comuni e se il tuo obiettivo è quello di diventare fluente in italiano sarà per me un grande piacere poterti aiutare anche nel programma Vai un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao